Scusate il ritardo, aspettatemi qui. Che t'ha detto? Niente di buono. Voi state anche alle scorte, vero? Da tre anni. Perché io ci vuoi rubare il posto. Faccio come te? La scorta non è un mondo per donne. Al massimo le volanti. Ma ho capito, che cosa ci manca? Non è quello che vi manca, è quello che avete di troppo. Qui non c'è spazio per nevrosi, invidie, gelosie, sentimenti. Guarda com'è finita l'ora in Montinaro. Che tipo è, Montinaro? Uno bello. Ma guarda che è sposato, eh. Che stupido che sei. Che c'entra? E l'ora è invece? Sposato pure lui. Grandissimo lavoratore. Quelli ora sono come il gatto e il topo. Prima invece erano tipo fratelli di sangue. Solo che quando hanno smontato la scorta a Falcone, loro se ne è uscito. Per Montinaro è stata una grande delusione. No. Stai attento però, eh. Fatti i cazzi tuoi, Fimbra. Ma come ti permetti? Hai capito, Loi? È meglio che ti fai i cazzi tuoi. No. Vedi che avevo ragione. Andiamo, ah. Ma che ci vai a fare? La cassiera è in un paesino della barbaccia. Ma preferisco fare la cassiera che restare qui. Che rottura di coglioni. Effettivamente. Ah, perché invece fare il poliziotto a Palermo? Fare il poliziotto è tutt'altro che noioso qua. L'esperienza del Menga, ma sicuramente non noiosa. Cioè? Non voglio lo spiegare che se si impegna lo capisce da sola. Vero, Speranza? Che lingua è? Lombardo. Ma quella è nipote di Madonia. Ma da quando in qua il Lombardo è diventato una lingua? Mi sa che con questa storia della lega mi si stanno montando la testa. Minchia, lingua più testiciliana non ce n'è. Hai ragione. Avrai nostalgia di noi, Speranza. Sì, di certo non di Palermo, guarda. Che succede? Fermo, polizia! Fermo, sparo! Bravo, Loi. Abbiamo arrestato a questo bastardo. Sembra una persona gentile. Dicono che il prossimo obiettivo è lui. Sta continuando il lavoro di Falcone.